Ciao a tutti, un punto veloce per il nostro Fuzzi con l'inizio del nuovo anno. Allora, questo è un daily dell'indice, qui abbiamo, ormai la conosciamo, la partenza annuale di inizio 2015, eravamo metà gennaio, primo intermedio, secondo intermedio, terzo intermedio e adesso siamo alla fine del quarto intermedio, quindi del ciclo anno. Si vede proprio bene, questa è la parte in cui i prezzi erano ancora sopra le medie, queste 200, 150, erano ancora sopra, di fatti rimbalzano, in questo punto i prezzi si trovano di nuovo sotto, tendono a rimbalzare, ma qui le medie più veloci, le 50 e la 100, incrociano ribasso la 200 e quindi la forza del ciclo che ormai si trova nella parte finale dell'annuo dimostra che non riescono più a oltrepassare le tre medie e quindi vanno poi, come il ciclo insegna, a chiudere con debolezza. Questo era il triplo massimo che abbiamo visto durante l'ultimo filmato, dove appunto dicevamo che era da preferito per attività short. Allora cosa succede? Alcuni mi hanno chiesto come è possibile che qui termini l'annuale e si è già ripartito il nuovo annuale, io che ho messo il punto interrogativo, a parte che questo ultimo intermedio è più breve degli altri e comunque qui eravamo già a metà gennaio all'inizio dell'anno, qui invece facevamo ancora a fine dicembre, per cui sarebbe stato forse un po' troppo breve anche se per statistica un ciclo può avere un 10% in più o in meno di durata. Però vediamo che un ciclo anno quando parte, come in questo caso, è una forte spinta rilsista, anche se non sempre forte come è stato questo, però comunque doveva essere più forte sicuramente di questa risposta. E questo minimo qua, che qui è fatto da supporto, rottura, retest, sicuramente per tre volte non sarebbe valso come minimo importante, come resistenza importante, se questa fosse stata una partenza annuale. Cioè qui tre volte l'indice e il costo dei prezzi è stato respinto, per cui è abbastanza improbabile che già qui sia partito un ciclo annuale, che altrimenti avrebbe avuto forza per almeno una delle tre volte per rompere i 21.7. Per cui ho messo questa linea grigia, che potrebbe essere un'ipotetica fine di anno, potrebbe essere qui qualche giorno prima, ma il fatto sta che mi aspetta ancora qualche giorno di debolezza per poi ripartire bene. I 20.500 potrebbero essere proprio anche come analisi tecnica un buon punto per ripartire, il 20.500 comunque, in questa fascia di prezzo. Quello che è importante è che ci sia una forte spinta aria alzista, perché se noi qui ripartiamo con l'annuale, ma non abbiamo una forte spinta aria alzista, che dovessimo rimanere in quest'area di prezzo, questo perché magari l'America non va a fare nuovi massimi, e poi passato un mese o due mesi dovessimo andare a rompere i 20.500, che è il punto di inizio dell'annuale presumibile, questo vuol dire che poi tutto il ciclo annuale sarà a ribasso e terminerà sotto i 20.500. Quindi l'anno 2016 è molto delicato, dobbiamo vedere dal momento in cui parte se riesce ad avere una spinta forte per allontanarsi subito dal punto di partenza e andare a navigare alto, come ha fatto qui, per poi avere una chiusura di ciclo nel 2016 al rialzo, come appunto è stata questa nel 2015, che è partita a 17.5 e chiuderà a, non sappiamo quanto ovviamente, ma a 21, 28, 25, 22, comunque al rialzo. Se noi andiamo come regola su time frame minori andiamo a cercare un punto di entrare che può essere interessante. E qui noi siamo sul 60 minuti e andiamo a vedere che a metà dicembre è partito l'ultimo mensile e 14 dicembre quindi andiamo all'incirca a metà gennaio. E questo va a valorare l'ipotesi che non sia ancora chiuso il ciclo anno, proprio perché di conseguenza non sembra ancora chiuso il ciclo mensile, mancherà qualche giorno. Questa fascia di prezzo è il minimo che vedevamo del ciclo precedente, che appunto abbiamo detto non è stata rotta. Quindi se questo fosse stato un inizio di ciclo annuale, come dicevamo prima, sicuramente questa, questi 21,7 sarebbero stati rotti. Invece per due volte hanno tenuto, anche con una divergenza negativa del MACD, per cui diciamo che aspettiamo la chiusura di questo ciclo mensile, un po' di giorni ancora, per avere poi la partenza del ciclo annuale. Per cui tante volte è importante anche andare nei sottocicli che ti vanno a confermare quello che pensi quando vedi un ciclo di un time frame maggiore. E il fatto che noi qui dessimo come ipotesi i 20.500 potrebbe essere anche avvalorata, a questo punto andiamo a vedere, dal time frame settimanale, ovvero sia noi andiamo a trovare i 20.500 sia sul fatto che sul 60 minuti non è chiuso ancora il ciclo mensile. Lo troviamo sul daily che ce lo dà come triplo supporto e se andiamo a vedere il grafico di lungo periodo anche con candele settimanali vediamo che questi sono sempre i 20.500 che sono il supporto statico che vediamo qui sul daily ma sono anche un supporto dinamico di lungo periodo che è un supporto che è la base di un canale rialzista. Per cui i 25 sono supporto statico, supporto dinamico e anche come tempo ci dicono che potrebbe essere un livello buono perché il tempo da sia qualche candela ancora di svilupparsi per andarli a testare. Per cui i 25 chiameranno sicuramente un BUY, viceversa se il tempo basso non dovessero essere testati e dovessimo trovarci questa fascia su 21 però il tempo basso quindi il ciclo sta per partire e potremo andare in BUY alla rottura dei 21.7 con primo obiettivo i 22.8. Per cui è importante controllare il tempo e vedere sempre i propri cicli sul time frame minore per avere conferma. Qui abbiamo la partenza del mensile quindi 14 dicembre manca ancora qualche giorno per il 15 di gennaio come sessione di borsa pet ed è altresì importante andare a vedere su un time frame più alto dove abbiamo la stessa ipotesi ok base del canale a 20.500 per cui è partito il nuovo anno ciclico di borsa per cui ancora un attimo di pazienza e vediamo cosa succede i 20.500 il livello per il BUY se non dovesse essere testato aspettiamo 21.7 la rottura il livello per il BUY. Buon proseguimento ciao e grazie